Traendo spunto dall'iniziativa didattica Leggere ed Annunzi e Vivere il Pittoriale Storia, Arte e Natura, la nostra classe Quinta Arredo della Scuola d'Arte applicata Andrea Fantoni di Bergamo si è occupata della realizzazione di un progetto che ha come obiettivo primario quello di valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano. Il Pittoriale oggi è un monumento aperto al pubblico e visitato ogni anno da circa 210.000 persone, ma purtroppo molte scuole non hanno l'opportunità di accedervi per motivi legati alla distanza geografica o a seguito delle restrizioni legate all'emergenza pandemica. Per questo motivo abbiamo ritenuto utile mettere a disposizione di tutti gli interessati la frizione tramite realtà virtuale di una parte del complesso monumentale. Nello specifico la nostra proposta intende ripercorrere i temi e i momenti più significativi dell'esperienza biografica e letteraria di Gabriele D'Annunzio, attraverso un percorso interattivo modellato all'interno dell'anfiteatro, una delle aree esterne più suggestive del luogo, così da rendere il vittoriale più accessibile a tutti. Per realizzare questo lavoro abbiamo proceduto seguendo gli step progettuali ed esecutivi illustrati di seguito. Visita al vittoriale dopo aver studiato Gabriele D'Annunzio, rilievo fotografico, inizio modellazione 3D, ricalco delle planimetrie gentilmente fornite dall'Associazione del vittoriale e dall'architetto Gaeta Reglierrico, rilievo delle misure, programmazione del volo del drone realizzato dall'architetto Ieniro Pellegrinelli, rielaborazione digitale al fine di ottenere i modelli 3D e l'esportazione necessarie alla fase di progettazione, ideazione della parte progettuale, montaggio di tutti i modelli 3D in un software di modellazione parametrica BIM, test di verifica della realtà virtuale tramite visore Oculus, creazione ed esportazione di ambientazione VR, impaginazione in tavole della ricerca storica e stesura di una relazione tecnica. Il nostro progetto prevede la realizzazione in virtuale di botteghe tematiche collocate nella zona sottostante dell'Arena del Vittoriale e visitabile attraverso i visori che ogni visitatore a distanza indosserà il momento della fruizione. Ogni bottega è dedicata ad un particolare aspetto biografico letterario e permette ai visitatori di approfondire la propria conoscenza di D'Annunzio e del complesso architettonico del Vittoriale. La prima bottega è dedicata al panismo. All'interno di questa bottega virtuale è possibile rivivere le sensazioni trasmesse durante il rito panico descritto nella poesia La pioggia nel pinito. Appena entrati ci si trova in un'atmosfera unica, circondati dalla natura e dai suoi elementi, come il frusce delle foglie e il suono di una pioggia leggera. Durante la visita virtuale si viene accompagnati dall'ascolto di alcuni estratti poetici di D'Annunzio, che consentono al visitatore di godere della sua arte e di immedesimarsi nell'esperienza panica. La seconda è la biblioteca, in cui viene ricreata una biblioteca che raccoglie la vastità di libri presenti all'interno dell'abitazione. Durante la visita in questo ambiente virtuale è possibile ascoltare la descrizione di alcune delle opere più importanti di D'Annunzio e, su richiesta, è possibile consultare i volumi dei libri in formato digitale o audio. Bottega dedicata al mausoleo è possibile accedere in un luogo molto suggestivo della residenza di D'Annunzio. È collocato nel punto più alto del vittoriale e caratterizzato dalla presenza delle sculture dei suoi cani, compagni fidati che lo hanno accompagnato durante la sua vita. Infine, la nave. Da questo portale si accede ad un'era molto particolare del vittoriale, la nave, la cui prue è stata incassonata nel giardino della residenza. Nella zona sottostante sono allestiti due musei espositivi riguardanti le imprese militari del poeta. Questo progetto di virtual reality non solo ci ha coinvolti dal punto di vista tecnico professionale, in linea con il nostro indirizzo di studi, ma ha per noi anche una valenza civica, in quanto stimola riflessioni su tematiche di rilievo, quali l'istruzione, le pari opportunità e la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del nostro paese. Ciò che è stato mostrato in questa presentazione intende rappresentare il punto di partenza di un progetto potenzialmente più vasto, che potrebbe ampliarsi e coinvolgere in futuro anche altre aree del complesso monumentale, così da rendere disponibili nuovi contenuti per la fruizione sempre più dinamica ed interattiva del patrimonio. Ringraziamo la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani per averci concesso l'opportunità di solvorare l'area dell'anfiteatro con un drone e per aver supportato la nostra iniziativa didattica. Un ringraziamento speciale va ai nostri professori Marco Peruta e Ramona Maestroni, che ci hanno seguito e supportato per tutto lo sviluppo del progetto. Un grazie speciale all'architetto Pellegrinelli per il suo contributo. Grazie a tutti.